2 3 3 Bene ragazzi siamo qui a un piccolo episodio di cazzeggio su minecraft Ecco con me c'è Saluta a tutti Ciao belli Salutiamo le Meduse Ciao Meduse Oh c'è un buco andiamo a vedere Chissà che cosa c'è Un incendi Buttiamoci Con 360 aspetta finisciamo 360 Oh vaffanculo oggi riesco 360 Oddio mi sono buttato Con calma con calma Che cazzo è Ed ecco qua ragazzi Questo qua è il nostro Centesimo episodio E siamo cresciuti Eeeh Ti so avete a quante scritte e quante visualizzazioni stiamo Subito Al vollo Allora Pronto visto per lavorare sta cosa o mezz'ora Guardatevi cosa ha fatto ragazzi per voi Mi sono scervellato Eh poverino Allora Camperone Dai cazzo Andiamo E andiamo a vedere che abbiamo 104 iscritti e 3820 visualizzazioni Allora ragazzi stiamo crescendo Mi ricordo che Spero Le iscritte e zero visualizzazioni Queste hanno Un attimo 100 di più La visualizzazione 3 milioni Vabbè Allora ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Da Da Camperone 96 Eeeh Idea E' tutto Ce l'ho un po' Siamo usate Bella ragazzi Bella a tutti Allora Ciao 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 Ciao